Prima presenza in questa gara ufficiale con l'Arezzo, sei contento? Eh certo, contentissimo. Meno parole, sono contento. Come è stato in queste settimane lavorare con una squadra professionistica come l'Arezzo, che punta al salto di categoria? È una squadra, posso dire, un gruppo unito, che meritano tanto, soprattutto i più vecchi, per esempio Moscardelli. Che ci danno tanto. Contento di essere in un gruppo così. Il ministro mi ha aiutato tanto. Che cosa ti ha detto Moscardelli? Adesso, visto che avete fatto allenamento dopo la partita, per tenere un po' il ritmo, ti ha detto qualcosa per l'esordio? Cioè, mi ha felicitato. Dirmi di non mollare, andare avanti sempre. Obiettivo delle tue prossime settimane adesso qual è? Di entrare il primo possibile. Anche in campionato, immagino? Certo, certo, anche in campionato. Dammi un'impressione sull'Arezzo in questi mesi che tu hai vissuto fin dal ritiro. Insomma, è una squadra che può arrivare dove, secondo te? Secondo me può vincere il campionato, perché abbiamo tutto la qualità fisicamente. Ovviamente, vedete ora che il prof si ha fatto correre tanto, c'è un gruppo che secondo me può andare fino alla fine. Ti chiedo un'ultima cosa, hai un giocatore modello al quale ti ispiri, insomma, che ti piace particolarmente? Io certo, è Rubinio. Rubinio era. Mi ha oracce, sono un centrocampista, però mi fanno giocare come terzino. Il giocatore che mi piaceva qua in Italia è Pirlo. Sono un uomo di giocarle. Grande giocatore. Sì, unico, posso dire. In bocca al lupo. Grazie, grazie anche a voi. Grazie.